Oh amici, eccoci qua, Pabri Sordi, ricordate cosa vi ho detto e anticipo che ogni promessa e debito, vi avevo detto e assicurato che sarebbe successo il finimondo in quanto prodotti, ovvero tanti arrivi con prodotti mai visti a Pabri Sordi, la direzione dopo l'estate ha aperto le briglie e ha invaso di prodotti nuovi di qualità in tutti i centri Pabri Sordi. Se ne siamo accorti però, la plus ha aumentato del 38%, avete esagerato, ma vi dico che grazie, manna dal cielo, grazie, tante tessere nuove gratis, se no non si può entrare, non si può entrare, scusate, e avevo detto che il tesseramento su Orde di Roma era a novembre, di novembre ce n'è uno, fino a dicembre potete fare tessera, solo che a dicembre in questo periodo, amici, cercate di venire in orari dove potete fare la tessera, non vi ho detto nulla, allora, mondo ime tecno, vi dico i prezzi, macchina del pane, macchina del pane maggiorata, vi faccio vedere alcuni esempi, cos'è questa? quella macchina cook che fa tutto, il prezzo fa tutto, il prezzo è da niente, basso basso, cosa abbiamo? Una lava pavimenti a vapore, a vapore, sempre ime, ancora, no, un perno da stiro ime, che poi abbiamo in Toshiba, vi faccio un esempio, cosa c'è? Ah beh, certo, caro Andrea, scusate, è bello quando si fanno le cose in diretta, taglia capelli, ime tec, con filo o senza, ma costerà di più, certo, uguale, uguale, nessuna differenza sociale, nessuna differenza di prezzo, Robi, ma ti gasi? Sì, perché essere un magazzino e partire con ime tec e poi Toshiba e tanto altro, un esempio di prezzo lo faccio su Toshiba, 125, una spira, povere, carrellato, il miglior prezzo da Publish Store, guardate, elettronico, neanche 70 Euro, quando vedete, quando venite, quando curiosate e poi acquistate e vedete i mettec, direte, ma che baffo, avanti Savoia, andiamo, passiamo da un discorso all'altro, scarpe importunistiche beta, 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 prezzo normale, il mio prezzo 35,40 Euro, qua da noi 19, adesso vi faccio vedere una cosa che io amo tanto, è una tuta dell'olio, è l'americana, vi faccio vedere, bravo Franco, che cosa si vende in un grande gruppo 35,90, vediamo la tuta, è una tuta che cambiate, usa e getta 5 o 6 volte, ottenetela di più, veloce in tutte misure, confezionata e sterilizzata, non a 35, 4,90 Euro, 4,90 Euro, svuotatele perché poi non te ne saranno più, ma adesso seguitemi, e vabbè sto Popcaffè, lo metto come la corona sua maestà, Popcaffè, ho capito, c'è il prodotto più venduto, Alessandra, ricordi il Popcaffè, lo esorriamo sempre, è arrivato, quando venite è arrivato, attenzione, Nela Melinda, edizione limitata, mousse di nela polpa rossa, prezzo normalmente venduto più basso di taglia, sono due, 1,50 dal bappo, poco più di un Euro, quasi la metà, andiamo qua, veloce, e cos'è? Composte del contadino, 6,90 Euro, 3,90 Euro, prezzo Pablisco, no, normalmente venduto, Crespi, San Pion, 340 grammi, 3,90 Euro, io potrei stare qua una giornata, una notte intera a parlare di alimentare, ma dico i più semplici, oh, che sono queste? Le olive, come si chiamano? Dov'è il nome? Non lo vedo, dov'è il nome davanti? Ambra Mazzicocco, eccolo qua, 1,79 Euro, anziché 3,50, le acciughe, 540 grammi, meno di 20 euro un vasettone così, 9,90, la metà, poi l'Andrea, ma adesso delle altre sorprese, questo cos'è? Questo punta più verdure grigliate, un chilo e 7, faccia i muscoli come braccio di perro, neanche 10 Euro, io direi con l'alimentare, mi fermo qua perché avrei da raccontare ore, 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 un alimentare di qualità a piccolo prezzo, andiamo avanti! Montepulciano, do a quasi 13 gradi a 4,90, io vi faccio vedere alcuni vini, anche perché voi lo sapete meglio di me, è un prodotto che noi teniamo molto, noi vini di bassa qualità non li teniamo, un euro in più lo spendete, ma spendete un euro in più quando vale il doppio e il vino, chiaro concetto! Avanti, cosa abbiamo? Il Rosso Doc a 3,90, vediamo, abbiamo il Barbero, Barbera oltre po', metà del prezzo normale, ma vini di una certa qualità, pro secco, pro secco, pro, pro, pro secco! Quanto? 5,90 anziché 11! E adesso per gli amici amanti della birra, l'avevamo finita, ce l'avete richiesta a squalciagola, birra artigianale, collesi, una birra speciale, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel riordino perché a quel prezzo non si trova, di fatti 5,90 anziché 8,90, non è finita, però si in più della luce, a me! Sorprese delle sorprese, adesso vedremo, per esempio, babucce, le prese anch'io queste, belle, 10 euro 4,90, 4,90 invernali, alla coppia 4,90, 4,90, mi fermo qua! Andiamo avanti con la detergenza colore top, io qua mi fermo perché abbiamo il tonalizzante per capelli che costa almeno un euro in meno, poi abbiamo dello shampoo particolare di marca San Sik, per andare a? Per la lavatrice questo, no? Cerotti! Per la lavatrice si si rompe, sono tornati i cerotti, dice l'Andrea, Pepsodent, 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 3 euro da metà, 1,50, vi dico detergenza, ma non finisco qua perché, questo lo conoscete tutti, Baseline, 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 un euro in meno su un prodotto che costa 2-3 euro, un euro in meno amici, tappeti via dicendo, il bluma, successo incredibile, qua vi dico, guardate che tra poco arriva una montagna di detergenza, schiuma di champagne, vi dico, vi ricordate l'ultima registrazione, avevo detto dei prezzi particolari e avete svuotato su un articolo, ricordatevi, state lì un secondo, chiedo attenzione, quando verrete, troverete la detergenza schiuma di champagne a un prezzo mai visto, mi ricordo un famoso stock che avete svuotato, abbiamo avuto dei prodotti Anchel che avete svuotati, vi ricordate, ma non ce ne è più, non ce ne è più, qua la stessa roba con questa detergenza, schiuma di champagne a prezzo mai visti. Allora, mi leggo anche al discorso meta prima, quando mi ho fatto vedere le scarpe antimportunistiche a un prezzo che non esiste, anche lì non mi voglio avvencare tutti i prodotti, utensili meta che arrivano, arrivano meccanici, imprenditori, idraulici, elettricisti, di tutto di più e voi privati con utensili beta a un terzo del prezzo. Quanta roba Fabri Store, non è finita. Allora, una cosa piacevole, noi sull'abbigliamento, il reparto abbigliamento, ci abbiamo sempre tenuto e qualcuno ci ha detto ultimamente, più di uno, complimenti Fabri Store, complimenti Bappo, complimenti a tutti voi, però, devo dire però, anzi ho trovato un miglioramento, avete trovato dei marchi e abbigliamento di alta qualità rispetto a prima. Beh, quando le opportunità arrivano, noi le proponiamo a voi. Grazie del complimento e lo ammetto, sì, con molta modestia, l'abbigliamento è molto cambiato e più curato ed è un abbigliamento che ha un senso di qualità a un prezzo per tutti. Ora noi vi facciamo vedere alcuni esempi, non possiamo, con tutta la merce che c'è in tutti gli articoli, stare di loro o soffermarci, ma ci abbiamo tenuto e ho preso, non la modella, la caudia scivra che costa tanto, ma ironia della sorte, un'amica simpatica, una figlia di un mio amico, come una persona normale, piacevole, indossa e diventa ancora più interessante con questi capi. Guardateli un po', eccola qua, guardate, eccola qua, Alessandra, mamma mia, come siete belle voi come Alessandra, persone normale che si abbelliscono. Vai per vedere? Ecco il cappotto che dicevo, eh? di chi ha sorpresa? Marta Marzotto! Brava! Albro! E mamma mia, siete diventata modella! No, lei è una persona come noi, noi vediamo anche questo, abbiamo tanti altri modelli. Vai Ale! E la miseria! Ecco la vostra amica di casa, vostra figlia, che fa la parasserella! Hai visto? Sì! Brava! Ancora! Ma devo sempre aspettare! Mamma mia, che carattere! Ero lì a ascoltare un cliente, un altro modello Alessandra, guardate un po', ecco lì dovrei commentare, non serve, questi sono i capi Marta Marzotto che trovate nel proprio store, ne volete ancora? Ancora? Ancora! Ancora! Vi sarete mai aspettati, mai altavosa così! Ale, adesso mi faccio trovare pronto, visto che mi hai cazziato tre volte! Eccoti qua! Brava! L'ho trovato! Rapidamente! Vediamo anche questo Alessandra! E anche questo non è male, non vi dico i prezzi, li vedete qua! Molti e molti capi che fanno tendenza a qualità e eleganza! Io te ci vediamo ancora, eh! Alla prossima! Vai pure! Brava! E noi? Continuation! Oh! In questo bel silenzio notturno che cosa vi propongo? I maglioni Marlboro Country! Ci sono questi e ne sono arrivate degli altri! I maglioni Country costano 60 euro! Marlboro Country! Qua da noi 39, neanche 40! Qua non insisto perché qua quando arrivate sapete già cosa fare! Ci appassi io e portacardi con il dialetto, eh! Andiamo! Belli però, eh! E vabbè! Belli è però, eh! Mica male! No, basta! Mi fermo qua! Perlamo! Questi sono alla sovra produzione di quelli griffati! Qua troverete troverete vicino alla Marlboro Country! Dei maglioni! Dei griffati! Va da retro Satala! Sarebbe lui, eh! Per me Satala è l'amico Franco Tonnelli che mi segue da 40 anni! Si capisce, non si può dire! E' la sovra produzione tra i lati e maglioni a 29, a 39! E poi il suo maestà! Tacchini! Non è finita? Bene! Tacchini! Sovra produzione! Marlboro Country e Ladies and Gentlemen! Conte of Florence! E' una maglia che costicchia! Mi diceva mio amico Antonello! E' un grande fornitore! Costicchia ma la pagate molto, molto meno! Quanta roba di qualità! E' Marta Mazzotto! E' mille cose ma andiamo avanti! Ecco perché! No, qua c'è! E' un telo che non posso nominare! Di alta qualità! Poi amici andiamo dagli accappatoi! Allora, qua è stato rifornito tre volte! Accappatoi di un certo peso, 24-30 euro, lo li vendiamo a 12,90 euro! Non voglio neanche spiegarvelo! Tutti i giorni la pina e la pina diminuisce! Noi come sempre apriamo un prodotto, nello scappale, nell'esposizione c'è sempre un prodotto aperto! Sapete perché? Per sentire la grammatura, per sentire la qualità, per sentire il prodotto risparmio con un prezzo esclusivo per tesserati! Non abbiamo finito eh! Ancora tanta roba! Che bello! Che bello presentare i prodotti Pabri Store! Giusto ricordare che la tessera è omaggio! Fatela! Perché un giorno non sarà più possibile! Fatela! Non dovevamo farla nel mese di dicembre perché se resta il totale, vi veniamo incontro anche nel mese di dicembre, vi tesseriamo! Per chi ancora non ce l'ha, non costa niente, potete entrare in tutti i centri di Pabri Store gratis e, perché dico gratis? Gratis la tessera in più alla cassa, vi fanno un 6% su prezzi già scontati! Vedo che è arrivata di nuovo a gran richiesta il materiale Dunlop, no? Non so, una marea di schiume così ha poco più di spugna a 3 euro! andiamo avanti, vai Franco, vai! Forbici a 3 euro anziché 7! Completo di forbici 1, 2, 3, 4, a 5, 90 anziché 9! Un colapasta che a casa ci vuole eh! E' un salva spazio, guarda, cazzo è una furbata eh! Al silicone costa 2,90 euro, non diciamo neanche prezzi! Mi ero dimenticato gli ombrelli Umbro! Tutto di qualità! Signore e signori l'ombrello Umbro anziché 25 euro costa 12, meno 6% di sconto alla cassa! Io vedo in giro tanta roba di qualità! Vedo in giro tantissimi prodotti nuovi! Tanti tanti! Vi ricordate l'ultima volta? Ve lo ricordo ancora! Vale la pena fare in giro nei Publistore! Perché ora vedete questa merce! Nel frattempo che venite ne trovate altra! Ma merce che vi fa dire e vi do la mia parola non si può non comprare! Lo so! Perché vi viene questa voglia quando vedete! Prodotti utili che vi interessano! Che vi aprono la fantasia e a voi tesserati a metà prezzo! Avrei finito! No! Lì comodi! Lì comodi! Sono qua dietro la telecamera eh! Guardo i giocattoli! E qua amici bambini vi voglio fare baffo Natale! Poca roba eh! Per esempio questo tanto acclamato play do! Abbiamo 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 play do! play try! Cora 3,90! Quanti! Quanti play do volete avere?! Cos'è questa?! Un altro gioco canestro 3,90? Non ci credo! Un altro gioco da regalare a 3,90 il pongo a 3,90 3,50 3,4 5..... perché Vai vaga, oh, è il salamotto a 3,90, questo mi fa arrabbiare. E' un salamotto che parla, secondo se lo tira la molle, ci fa divertire, ciao, ciao, basta però, 3,90, ho voluto cercare di essere... Basta, ho voluto essere un po' spiritoso per dirvi tante cose, adesso, prego, avanti signori, oh, guardate, una parete di trapunte. Ma quale trapunte? Allora, 50 euro, il prezzo più basso, Publistore, 34,90 e sconto tessera. Ne abbiamo vendute a migliaia perché il rapporto prezzo-qualità è incredibilmente vantaggioso. Guardate, abbiamo riempito una parete, 34,90 da prendere anche se non abbiamo bisogno. Parola di baffo. Allora, amici tesserati, qua leggete gli imperdibili, l'angolo di Roberto, preciso, perché poi avete visto anche voi quando venite, quando pagate un euro, 90, un... cos'è? Un cuscino da bianco, un euro, 90, ho pagate 3,90, questa cosa in legno, ad appoggiare la pentola, ho pagate 0,79, la raccolta degli animali che veniva venduta a 4,90, si vede, eh? Vado avanti. Se pagate una spazzola per bambino a 0,79, 79. Se pagate un pigiama completo a 2,90, se pagate una sabbiettina a 0,39, se pagate un cappello in termina uno sciarpa a 1,90, ragazzi, gli imperdibili per forza, una lampada da 6, ma scusate, una candela confezionata regalo a 2,90, perché sono stati chiamati gli imperdibili? Ecco Franco, vai pure ancora in panoramica. E' un regalo che l'azienda ha messo in tutti i punti vendita prima di uscire, cosa vuol dire? C'è un prezzo simbolico, sì, vi faccio un regalo a neanche un euro, se voi pensate un euro e 90, una confezione di questi animaletti, guardate, indietro, un pacco intero, la confezione intera è 1,90. Non mi devo prolungare, gli imperdibili, ogni punto all'uscita, prima di andare alla cassa, consideratelo un regalo vero. Prezzi che proprio lo dice la parola, non puoi non prendere due o tre prodotti spendendo un euro, un euro e mezzo. Dai, questo l'ha fatta l'azienda per premiare la pedeltà dei tesserati. Tessera che è gratis, sì, ancora sino al 31 dicembre, ok? Andiamo avanti. Quante lampadine, pure l'esempio acceso. Qua è un'idea del super capo Andrea, il pelattino, sì, sì, andiamo avanti. Devo vedere una lampada, eccola qua, una lampada in metallo, la appoggiate dove volete e magia. Si accende, cambierà colore e la spegniamo dovunque voi la mettiate. Un grande design, confezionata regalo, neanche 10 euro. 9,90, meno, meno lo sconto tessera alla cassa. Allora, per essere chiari qua, veloci, prendetela perché ne avremo 50 o 60 per punto vendita. Sono andate finite. Cosa dite in questo momento? Oh, la bolla, certo. Grazie per aver suggerito una gran bella borraccia termica. marchiata a Svizzera Alpine, 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 a quanto? Poco più di 9 euro. Vi ricordo anche National Geographic, un prodotto che è andato a Ruva. Qual è tutto National, offerta speciale con prezzo particolare. Si è rimasto ancora qualcosa? Ancora? Ancora! Lì, li fermi! Amici tesserati! Non manca tanto, eh! Non manca tanto! E la gente ancora in milanese, in vialetto breciano, mantovano. Cosa c'è da vedere ancora? Noi siamo curiosi! Signori, e posso cadere tutto, non è che posso stare qua tutta la notte e tutto il giorno. Dai! Qua abbiamo quelle famose creme della Dermattiva, dove non ne presento neanche, entrate e ne prendete una. Questi profumi da qua fino in fondo sono i famosi equivalenti appena arrivati. Quei profumi che costano molto hanno l'assenenza uguale o simile e ripagate molto meno e fate una bella figura. Allora, diciamo così, uno per l'altro da 6, 7, 8 euro. Oh, vediamo le scarpe da Umbro. Le vediamo qua. A 29 euro un paio di scarpe Umbro. Non devo aggiungere, costano 59, 29. Ma abbiamo anche le scarpe da donna di Adora. Eccole qua. A 39 euro anziché 69. Scarpe da donna di Adora. Quindi uomo e donna. C'è una marea di pantaloni qua. Guardate, vi faccio un esempio. Non è possibile un paio di pantaloni così. E avete mille misure e mille colori. Pantaloni, guardate, andate a vedere. 60, 70 euro a 24, 90 di tutti i colori. Poi vi voglio dire, amici, che c'è Armon & Blaine. Total look, maglie, magliette, uomo, donna, giacche. Un Armon & Blaine a 170 euro. Ma vedetelo. Guardatelo. Comprontatelo. Qua a 74 euro. Non so quanto manca, ma vi devo fare l'ultimo discorso molto importante. E per chiudere, innanzitutto, credetemi, non deve essere la solita frase scontata. Grazie, grazie. No, io vi dico di più. Vi dico veramente grazie con amore. Grazie per l'interesse. Sì, certo, Publistore in questi mesi l'ho netto. È molto migliorata. Migliorata lo vediamo da grande presenza. Lo vediamo da articoli che hanno una certa qualità. Hanno la marca di compronto. Cosa vuol dire? Un prodotto anonimo puoi dire qua. Costa 3 euro e da noi lo troverai due, ma non ha marca. No? Il successo di Publistore che ci sono prodotti, confrontabili, con marchi sicure. Cosa li pagheresti? Prezzo normalmente venduto e prezzo perché c'è la tessera. Un risparmio incredibile. Prezzo tesserati. Il famoso prezzo tessera. E io dico sempre, vi do un consiglio, ma fatelo, confrontate. Datici la soddisfazione dello sforzo che vi faccia dire incredibile. Ma è così. Ma che bello, che risparmio. Ecco perché Publistore negli anni è arrivata ad avere più di 430 mila tesserati. E così il prezzo compronto è sul vino di qualità, sull'abbigliamento, sui giocattoli, sugli orologi, sugli elettrodomestici. Perché la filosofia Publistore non è mettiamo tre pezzi così su un volantino. Prodotti che trovate a quantità e se non hanno il prezzo Publistore, perché tesserati noi non li prendiamo. Questo è tutto per voi. Con amore e fiducia il vostro vaffo mi dice arrivederci nei centri Publistore. Grazie.